Un saluto a tutti e benvenuti al videogioco della Marvel Spider-Man Miles Morales, uscito il 12 novembre 2020. Vi farò vedere in questo video un'altra attività che dobbiamo svolgere. Gru bloccata dal ghiaccio. La gru è piena di ghiaccio e rischia di schiantarsi al suolo. La gru è ghiacciata e potrebbe cadere. Allora andiamo a fare qualcosa. Gabri Costa e Miles Morales sono pronti a tutto per risolvere questi problemi e svolgere questi incarichi. Succede sempre qualcosa in questa città, davvero. Qui a New York succede sempre tutto. Non dimenticate che in ogni video che recensisco io parlo per bene, spiego per bene e poi dovete iscrivervi al canale Gabriosta Games. Non dimenticate che Spider-Man è il nostro supereroe della Marvel e lo conoscono in tutto il mondo. Tutto il mondo lo conosce. Se voi avete letto miliardi di fumetti su di lui. Mamma mia! Andiamo a sentire che ci dice l'operaio, visto che questa gru è coperta di ghiaccio. Spider-Man, sei venuto? Certo sono venuto. La tua gru sembra assonnata. Cosa posso fare? Cosa posso fare? Assonnata. Il motore si è fuso e gli accumuli di ghiaccio l'hanno sbilanciata. Già, è proprio un disastro. Ho sgomberato l'area ai piedi della gru, ma potrebbe cadere sulla strada. Devi liberarla dal ghiaccio prima che succeda. Ci penso io. Ci pensiamo noi. Per usare i lanciaragnatele e distruggere il ghiaccio premiamo il tasto R1. Ricordatevi di mirare, capite? Per mirare tenete premuto il tasto L2 e per usare i vostri lanciaragnatele premete ripetutamente R1. Così quando lo fate togliete le stalattiti. Sono bravo a rompere il ghiaccio, davvero. Ma non c'è del ghiaccio solo in quella gru, ma c'è anche in quella tubatura. Quando vedo una tubatura fa riordare Super Mario Bros. Abbiamo distrutto il ghiaccio e ora sistemiamo la gru al sicuro. Ma bisogna cercare qualcosa. Ah, scusate, non avevo visto il serbatoio dell'acqua. Ok, devo solo raddrizzarla e allontanarla dalla strada. Devo raddrizzarla e allontanarla dalla strada. No, 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 no. Ok, nessuno si è fatto male. Ma se ricordo bene l'orario dei treni, devo liberare i binari. La tubatura è caduta nei binari. Devo togliere quella tubatura nei binari. Devo premere il tasto quadrato per rompere la tubatura. E salto premendo il tasto X. Per un pelo. Non ho male che quel treno non ci investiva. Abbiamo finito. Spero che vi sia piaciuta questa attività. Questo video finisce qui, ragazzi. È stata una bella recensione. Se vi è piaciuto, condividetelo. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. E non dimenticate di andare al canale Costanza Fims di mio fratello Alex Costa. Lo trovate qui sotto in descrizione.